L'applauso esploso forte e spontaneo tra le persone in attesa in via Gelso 62 a Salerno nel quartiere Carmine quando i vigili del fuoco intervenuti prima di mezzogiorno per un grosso incendio divampato al sesto piano di un edificio sono riusciti a trarre in salvo il cagnolino intrappolato nella casa dove non era presente la proprietaria giunta in un secondo momento pare che a scatenare le fiamme sia stata una stufa accesa vicino ad una libreria dove ha preso facilmente a fuoco tutto il materiale presente quattro autobotti dei vigili del fuoco carabinieri polizia mezzi di emergenza ed anche i vigili urbani che hanno dovuto interdire il traffico sulla strada per consentire la sosta dei mezzi di emergenza al lavoro sono intervenuti per domare le fiamme visibili anche dall'esterno un fumo nero e un odore acre forte ha reso irrespirabile l'aria in tutta la zona dove è presente proprio di fronte all'edificio in cui è scoppiato l'incendio anche una scuola superiore l'istituto trani a scopo precauzionale le persone presenti nell'edificio sono state invitati ad allontanarsi e hanno atteso all'esterno il completamento delle operazioni di spegnimento che non sono state semplici e rese ancora più difficoltose dal forte vento un vigile del fuoco durante le operazioni si è ferito ad una mano ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza e qualcune testimonianze delle persone che hanno assistito alle operazioni di spegnimento e che si trovavano all'interno del palazzo quando sono divampate le fiamme A provviso abbiamo sentito puzza, hanno chiamato dicendo che era andato a fuoco l'appartamento del settimo piano Tu dove vivi? Io al quarto piano del palazzo, sentivamo una puzza, vedevamo la gente tutta in mezzo alla strada siamo scusi anche noi, ma non sappiamo com'è andato a fuoco, nulla Un grande spavento, è ancora in corso? Sì, la paura è stata tanta, ma ancora, perché le fiamme ancora sono alte quindi abbiamo evacuato il palazzo, ovviamente Signora, aveva tanta paura per vostra figlia? Troppa, cioè io tremavo, perché poi non riuscivo a vederla, perché avendo la febbre mia figlia stava dormendo io ho visto soltanto correre i pompieri, ho detto ma che è successo? Sono corso e ho visto le fiamme mi hanno fermata perché volevo entrare dentro, ho detto mia figlia, mia figlia poi fortunatamente l'ho vista giù, però la paura è tanta, tanta